Opera Maestra e Stella Polare continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica e non solo. La Commissione Controllo e Garanzia, infatti, si è riunita e si riunirà a breve per continuare l'analisi degli atti, sentire dirigenti e persone coinvolte. Tuttavia, se da un lato il centro-destra chiede chiarezza, dall'altro il centro-sinistra chiede che controlli e verifiche non siano oggetto continuo di strumentalizzazione politica. Chiarezza bisogna farla, è doveroso farla nei confronti dei cittadini e abbiamo scelto di farlo con una Commissione Controllo e Garanzia come l'avremmo potuto fare tranquillamente con una Commissione d'inchiesta, ma era già stata istituita una Commissione Controllo e Garanzia. Commissione che dovrà stabilire l'attinenza, la coerenza tra gli atti di indirizzo politico e gli atti amministrativi. Questa Commissione ha costruito con il Presidente Lanzi e sul mio suggerimento come Vicepresidente un programma dei lavori con cui fare audizioni dei dirigenti, fare audizioni degli assessori e studiare insieme gli atti. Ogni volta puntualmente sulla stampa si va a riportare una parte degli argomenti trattati come sta facendo in questo momento il centro-destra. È un comportamento irresponsabile e soprattutto non rispettoso nei confronti dei cittadini che dovranno avere chiarezza. In questo momento non abbiamo bisogno di nuove strumentalizzazioni, di nuovo sensazionalismo, ma di chiarezza. Abbiamo ascoltato i primi dirigenti ed è stato molto chiaro che si rispetta la legge, si continua a rispettare la legge. Dobbiamo capire se effettivamente le volontà politiche sono attinenti a quello che poi gli atti hanno riportato, ma di pari passo, stando avanti questo lavoro, non capiamo perché si continua ad avere questo tipo di atteggiamento. Noi pensiamo che sia un atteggiamento irresponsabile quello di non volere chiarezza, ma tanto utilizzare la Commissione come un palcoscenico e non come un luogo deputato a fare chiarezza appunto sul tema. La Commissione continuerà ad affrontare atto per atto, comunque dirigente per dirigente, un po' tutte le questioni emerse sulla stampa. L'obiettivo non è avere un'agenda rispetto a quanto è emerso sulla stampa locale, ma costruirsi un'agenda per chiarire effettivamente il funzionamento della macchina amministrativa rispetto ad alcuni fatti accaduti. Non abbiamo ragione di credere che ci siano stati problemi particolari dal punto di vista della gestione amministrativa. Gli eventi sono stati organizzati, oltre che saldati. Vogliamo capire come e perché sono state scelte alcuni soggetti per poter gestire questa associazione e se potevano farlo. Al momento sembra del tutto normale che si possano e si continuino a affidare alcune risorse sotto i 140 mila euro. Tra l'altro sono risorse che sono state impiegate e date grazie a delle riforme fatte dai governi centrali, sia di centro-destra che di centro-sinistra, per cui è possibile non solo per gli eventi, ma per tutta una serie di attività e affidamenti, conferire fino a 140 mila euro di affidamenti diretti per organizzare cose, comprare beni o servizi.